Un'opera di misericordia che tutti conosciamo bene e che forse non mettiamo in pratica. Così Papa Francesco, nella Catechesi all'Udienza Generale in Piazza San Pietro, ha ricordato le fatiche del sopportare pazientemente le persone moleste, che spesso sono i parenti, i colleghi di lavoro e anche chi incontriamo nel tempo libero. L'invito del Pontefice è quello di farsi un esame di coscienza e mettersi nei panni degli altri. Anche Gesù, ha ricordato, è stato paziente nei tre anni di vita pubblica, sopportando ad esempio la madre di Giovanni e Giacomo che chiedeva un posto d'onore per i suoi figli nel Regno dei Cieli. Il suo, ha spiegato il Papa, non è un regno di potere e di gloria come quelli terreni, ma di servizio e donazione agli altri. Gesù insegna ad andare all'essenziale e a guardare più lontano per assumere con responsabilità la propria missione. Si tratta di un richiamo ad altre due opere di misericordia, ammonire i peccatori e insegnare agli ignoranti. Un impegno grande perché si aiutano le persone a crescere nella fede e nella vita, a lasciare le cose superficiali per scoprire i veri tesori, la vera vocazione e soprattutto cosa vuole il Signore da noi, ma significa anche aprirsi alla gioia. L'esigenza di consigliare, ammonire e insegnare non ci deve far sentire superiore agli altri, ma ci obbliga anzitutto a rientrare in noi stessi per verificare se siamo coerenti con quanto chiediamo agli altri. Non dimentichiamo le parole di Gesù perché guardi la pagliussa che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Lo Spirito Santo ci aiuti ad essere pazienti nel sopportare e umili e semplici nel consigliare. Nei saluti finali Papa Francesco ha ricordato con particolare affetto le vittime del recente terremoto che ha colpito il centro Italia. Ha poi invitato a pregare anche per i loro familiari ed ha esortato a continuare ad essere solidali con quanti hanno subito dei danni.